C'è la Regione Lombardia però che pur di stare accanto ai suoi sindaci, nonostante i tagli, ricordiamo che su 4 miliardi di tagli, un miliardo secco all'inizio dell'anno è arrivato solo a Regione Lombardia, applica il patto di stabilità orizzontale. Cosa fa? Semplicemente rinuncia una parte di quello che potrebbe essere il suo monte, soldi a disposizione per gli interventi e li lascia ai comuni e alle province. Ma non solo, noi abbiamo garantito per evitare alla metà delle nostre province in default la contribuzione pari a quella dello scorso anno. Quindi l'unico motivo per cui in Regione Lombardia le province continuano a sopravvivere è perché la Regione Lombardia ci mette i soldi che non ci ha messo lo Stato.